Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti all'Interflix 2018 Non so se siete riusciti a capire ma questo è un viaggio in pullman Ho fatto tutta la notte e sono partito da Roma Poi vi spiegherò meglio Adesso siamo alla frontiera tra Slovenia e Croazia per i controlli E forse dobbiamo scendere tutti quanti Nel frattempo quella che siete riusciti a vedere precedentemente È l'unica registrazione alla frontiera Prima che venisse stoppata Adesso siamo diretti a Zagabria Questa è la stazione di pullman vista dall'esterno Sono appena uscito Siamo arrivati con un'oretta e mezzo di ritardo Questo è semplicemente perché abbiamo trovato tantissimo traffico E in autostrada i problemi e i controlli Per caso mia questa volta però ci siamo comunque Questo è un po' all'esterno In realtà sto prendendo una direzione a caso Andiamo qua Sto prendendo una direzione a caso quindi non so bene dove andare Tra poco chiederò un pochettino E vado a vedere un po' com'è il centro città Soprattutto se trovo qualche alloggio o qualcuno che mi ospita Nel frattempo ho dimenticato di dire che sono stato accolto in modo incredibilmente malvagio da questo tempo Non so se si vede Il cielo è completamente grigio E ha cominciato di nuovo a piovere E ovviamente la bellissima notizia è che il centro città dista almeno 4-5 km Diciamo da qui Però le voglio fare un po' a piedi Per cercare di capire un po' come sono dislocate le varie cose della città E cercare di capirci qualcosa Magari parlare con qualcuno Quindi si va a piedi E alla fine ce l'abbiamo fatta La ricerca è stata prolifica Lo so che si vede un po' buio Però vi faccio vedere la casa in cui mi trovo Perché ho trovato ospitalità Allora questa è la mia stanza Dovrebbe esserci la luce Si vede un po' meglio Letto Scrivenia Sidiolina Armadio che non userò Anche perché rimarrò Molto probabilmente solo una notte Balconcino Con vista esterna Poi Andando di là Si passa per l'ambiente Bucine Tavolino Divano Cucina Mobiletto E Non so se si vede E vista dall'esterno Anche qui Per chi non avesse ancora capito Forse perché mi sono spiegato Comunque male Io sto facendo l'Interflix Che è Praticamente Un viaggio In pullman Attraverso Diverse Tappe Non ci sono scadenze A parte i tre mesi Della durata del biglietto E si può andare dove si vuole Ho scelto come prima tappa La Croazia E ho preso il pullman Da Roma perché c'è un diretto Praticamente Vi spiego molto velocemente Interflix È un biglietto unico Diviso in 5 mini biglietti O voucher Che possono essere utilizzati Nell'arco di tre mesi E Diciamo senza particolari vincoli Buongiorno ragazzi Oggi è il giorno dopo la qualificazione Della Croazia Mondiale E si vede dalle mie occhiaie Perché non ho dormito nulla Ci sono stati festeggiamenti Tutta la notte Che mi hanno tenuto abbastanza sveglio Però Comunque avevo Un comodo letto Sono stato Almeno con il corpo Riposato Comunque è mattina Presto Non così presto Perché È mattina Diciamo È una cosa normale Un po' buon gusto È sempre l'ambiente Che mi Permette di registrare E sto andando Alla sezione di Pullman Per prendere un autobus Per i laghi E il parco nazionale Di Plitvice O Plitvice Non ho capito ancora Come si pronuncia Allora Piccolo aggiornamento Direttamente dalla sezione di Pullman Sono con lei Sei già Hello È un pochettino È un pochettino Preoccupata È spaventata da questa cosa Comunque molto brevemente Sono arrivata alla sezione di Pullman Andrò ai laghi di Plitvice Diciamo che siano Esattamente questo momento Tata Adesso mi ha spiegato Un pochettino per caso Comunque questa è la sezione di Pullman Adesso andiamo dentro Vediamo un pochettino Il Pullman Per andare alla sezione di Laghi di Plitvice E vediamo un pochettino Zio Vuole dire qualcosa Diciamo Lui Ci voleva dire qualcosa E vediamo un pochettino Dove prendere il Pullman Come arrivarci E l'orario Stiamo cercando un bus A Plitvice National Park Oggi Il primo è 11.30 Il pullman 12.30 Il prossimo Ok Poi prenderlo Un pochettino Sì Un pochettino Sì Un pochettino Puna Questo è all'interno Della sezione Mi sono sedato Un attimo Sui tavolini Per farvi vedere Il biglietto È stato molto semplice Fortunatamente Erano quasi tutti Pieni Sono riuscito a trovare Un posto Tra gli ultimi Diciamo disponibili Che mi vedo così Sì Tra gli ultimi disponibili Comunque Sul Pullman Che va ai ladri Al parco nazionale Di Plitvice Diciamo che Avete visto L'orario sbagliato Cioè quello di arrivo In realtà Quello di partenza Il biglietto È questo Non metterà mai Ovviamente a fuoco Perché è in manuale E l'altra mano Lo sto utilizzando Comunque La partenza È alle 12.30 Il costo È di 93 1 croate In questo momento Non vi saprei dire come Diciamo che Molto rapidamente Se c'è qualcuno Che guarderà questo video Potrà Facilmente Fare il confronto Comunque Il calcolo Considerando Lo specchio Le scopi dei militri Considerando che Una cuna Sono più o meno 7 euro Quindi diciamo Che almeno Sono 70 10 euro Forse costerà Sui 12 13 Intanto questa è la stazione Questo è il lato Sempre questa è la stessa Dall'altro C'è lei che sta parlando Mi ha fatto compagnia Mi ha aiutato molto Perché ha aiutato a dire Alcune cose in croato E quindi noi Per il momento ci siamo